Musica Cari amici spettatori benvenuti, siamo di nuovo qui dallo splendido studio astronave del gruppo editoriale Distante di Rosso Vestito. E oggi la nostra astronave dove planerà? Planerà nel salotto, nel soggiorno di una nostra cara amica, di una ragazza, lasciatemelo dire, straordinaria. Non mi riferisco all'aspetto estetico, sarebbe banale dirlo, ma mi riferisco ad una ragazza intelligente, preparata ad una grande scrittrice, che ha pubblicato un libro interessantissimo e bellissimo, il cui ricavato ha uno sfondo così solidale e benefico, così bello, che ci fa capire come tante volte la vita ci consenta di comprendere la fortuna che si è avuto e quindi si cerca di ridare qualcosa. Diamo il benvenuto alla nostra amica, diamo il benvenuto ad Andy. Andy Fei, benvenuta Andy! Ciao, grazie. Allora, partiamo proprio dall'inizio, partiamo dalla copertina di questo libro bellissimo, io mi complimento con Teso che sta andando molto bene, Allergica al pesce, a cuna matata. La nostra amica è nata in Veneto, in provincia di Vicenza, nel 1998, è nata a Schio, ha frequentato le scuole a Cogolo, ed è non italiana, di più, perché sul concetto di italianità, prima di intervistarle, prima di raccontare di questa sua bellissima opera, occorre dire che italiano, chi paga le tasse in questo paese, chi studia in questo paese e chi dà lustro a questo paese, non esiste l'italiano. Se noi andassimo a fare un'analisi del nostro DNA, scopriremo che di italiano non abbiamo nulla, siamo un intreccio, siamo un mix, siamo una miscellanea, non esiste l'italianità. L'italianità può essere un sentimento, ma sicuramente non rappresenta una struttura genetica. Dimmi se sbaglio. Assolutamente no, infatti io ne sono la prova. Andy, io ho avuto modo e piacere di leggere il libro e so che è stato un grande sforzo fatto col piacere, col sorriso dentro, non solo col sorriso che è fuori. Ci vuoi raccontare com'è nata questa tua splendida idea? Allora, è divertente com'è nata la cosa, perché conta che finché non ho scritto l'ultima pagina non mi è mai venuto in mente di pubblicarlo. Cioè semplicemente quando avevo 16 anni ho avuto questa esperienza nel mio paese d'origine che vorrei specificare non è stata la prima, ma è stata la prima senza i miei genitori. Quindi la prima volta in cui sono tornata in Senegal da sola. E l'ho scritto quando ero invece più grande, quindi già quando avevo preso consapevolezza delle esperienze che avevo vissuto quando avevo 16 anni. Quindi ho voluto lasciarlo in un tono molto fantile, ironico, anche provocatorio, perché questa comunque è la mia natura per chi mi conosce. E così è uscito il mio libro, diciamo così è uscita la mia idea. Cioè una ragazza ormai consapevole delle esperienze che aveva vissuto nel suo paese d'origine, però appunto da più grande. Andy a me ha colpito molto una tua intervista in un'emittente televisiva nazionale quando hai detto è bello avere due famiglie. Io sarà che sto invecchiando, ma quando sento una ragazza più giovane di me, un ragazzo più giovane di me che dice una cosa bella come questa, capisco veramente che Erodoto aveva ragione. Erodoto è il più grande storiografo della storia del mondo e sosteneva che il mare è una lingua di acqua che unisce territori, non territori diversi. È come se fosse un ponte, un cavalcavia da percorrere. È proprio questo che noi cerchiamo di far capire, è proprio questo che noi vogliamo far capire, che non esiste il concetto di separazione, di diversità. Anche la parola extracomunitario è una parola politica, non è una parola che esiste. Il concetto di extracomunitario non c'è scritto nell'analisi del sangue, perché il sangue non ha colori. Sì, sono completamente d'accordo. L'esperienza con due famiglie, appunto, ogni volta che mi chiedono come è stato crescere con due famiglie, io rispondo che è stato normale, perché appunto ho visto solo questa dinamica familiare. Cioè, io oggi non ho idea di come sia crescere con una sola famiglia. Io sono nata e cresciuta in due famiglie, con due culture, due religioni, due tradizioni differenti, che però in qualche modo si sono unite in quella che oggi è la mia persona. E io, chi ti parla, è figlio di due meridionali. Mia madre è nata a Nocera Superiore, provincia di Salerno, da nonni napoletani. Mio padre è nato a Brindisi. Quando nel 1974 si sono recati a Torino, al mio papà non volevano fittare casa. Bianco. Quindi il razzismo è di... A tutti i livelli, eh? Il razzismo è di genere, di sesso, di colore di pelle, perché l'ignoranza, come sappiamo, ha tante mamme. Bene, siccome a Brindisi c'è un'ottima tradizione di cocomeri, le famose anguri e brindisine, tutti pensavano che mio padre fosse un venditore di cocomeri. Quindi dopo avergli detto no all'acquisto della casa, domandavano a mio padre se potesse fargli pagare di meno dei cocomeri. Possiamo dire che il razzismo è un qualcosa di tremendamente reale anche in Italia? E soprattutto in Italia? O no? Io lo domando a te, perché mio padre lo ha vissuto e non c'è più, e me lo raccontava. Però lo domando a te perché lo hai vissuto. Anche su questo apro una parentesi. In Italia, Andy, si parla di razzismo quando vedi persone che non lo hanno subito. Cioè si fanno delle tavolate, dove ad esempio si potrebbe parlare di problemi di prostata invitando tutte le donne. Non avrebbe senso. Si deve parlare di razzismo con chi lo subisce. Perché è chiaro che chi non lo subisce dice che non esiste. Sì, esatto. Soprattutto, comunque questa è una cosa che più o meno ho sempre notato, ma soprattutto in questi giorni. Mi sono arrivati molti commenti che cercavano di sminuire la mia situazione o comunque il mio intervento virale, chiamiamolo, e fatalità, dico fatalità, per pura coincidenza, questi commenti arrivavano da persone che non avevano mai subito questo tipo di commenti o comunque di situazione. Quindi con quello che hai detto mi ci ritrovo in pieno. Ma non è un errore da parte dei media fare tante analisi sul razzismo senza domandare a chi lo subisce che cosa prova? Io penso che sia anche questo razzista. È un po' come il razzismo tra razzisti. È assurda questa cosa. Sì, penso che comunque i media hanno sempre uno scopo. Quindi tendono a strumentalizzare quello che secondo loro le persone devono percepire, quindi portandolo dalla loro parte, chiaramente a loro favore. Quello che posso dire io comunque riguardo al razzismo, secondo la mia esperienza, è che non è razzista. Cioè il razzismo non è razzista perché colpisce tutti in qualsiasi direzione e ne ho parlato molto spesso anche nel mio libro in maniera ironica, però in modo tale che si potesse capire il concetto. Tu sei del 1998. Se oggi l'handy che sei oggi potesse parlare a l'handy di 5-6 anni, che cosa direbbe? Cosa farebbe? Quale sarebbe il primo istinto nel rivedersi allo specchio, bambina? Ah, gli direi buona fortuna, Veccia, te viene da strada da fare ancora, te che non ho ancora visto niente. Che detto in dialetto rende molto l'idea. E sul dialetto mi hai dato un grande assist. Si parla spesso di integrazione. Io penso che ci sia una fotografia reale dell'integrazione. Qual è? Mettere 5 bambini nel cortile di una scuola italiana. Uno di questi bambini è cinese, uno è giapponese, uno è americano, uno è africano e uno è... Non lo so, troviamo un altro, australiano. Io sono convinto che questi 5 bambini tra di loro parlano in dialetto e non un dialetto, il dialetto del proprio rione, il dialetto del proprio quartiere. è questa l'integrazione di cui dovremmo gioire e non aver paura? Sì, guarda, io ti faccio l'esempio mio. Io sono cresciuta a Cogollo del Cengio, che è un paesino in Veneto molto piccolo, a 40 minuti da Asiago, che penso che sia la città più conosciuta vicino a noi. Io comunque mi ricordo che fin da piccola con i miei amici, che mi reputo fortunata a poter chiamare ancora amici dopo tanto, tanto, tanto tempo, abbiamo sempre parlato in dialetto e anzi, mi ricordo che non appena ho cominciato l'università a Narni, in Umbria, ogni volta che tornavo a casa con questi stessi miei amici mi dicevano ma perché parli così? Guarda che non siamo mica in Terronia. Che sembra una barzelletta, no? Cioè, sembra una cosa particolare. Torniamo un attimo al libro. A me ha colpito molto il titolo. C'è una ragione particolare che ci puoi svelare senza spoilerare troppo del libro altrimenti non lo compriamo? E ricordiamo che anche una iniziativa benefica ci terrei che lo dicessi tu. Certo, allora, perché allergica al pesce a una matata? Molto semplicemente è una metafora, ironica ma non ironica, è sia letterale che metaforica appunto perché io veramente sono allergica al pesce e questo è un paradosso per la quale tutti i miei amici senegalesi mi prendono in giro. Perché? Perché il Senegal è il primo produttore di tonno dell'Africa subsahariana appunto primo e il nostro piatto principale è il cosiddetto jolof che in uolof in realtà lo chiamiamo cebujen ovvero riso con pesce. Loro là letteralmente lo mangiano mattina, pomeriggio, sera, merende e io non lo posso mangiare. E questa anche questo è uno simoro si potrebbe dire è particolare no? E' uno simoro certo, certo, è come dire che un abitante di Napoli non può mangiare la pizza è la stessa cosa. Esatto, esatto, era proprio lì che volevo arrivare cioè praticamente la metafora dove sta? Sì, sono senegalese ma fino a un certo punto. Qual è in qualche modo la finalità di questo libro? So che c'è qualcosa di molto solidale e bello dietro tutto questo. Prima di andare in pubblicità ce lo vuoi raccontare? Sì, allora, tutto il ricavato del libro sin da quando l'ho scritto va nel villaggio in Senegal dove è nata la mia mamma, dove è cresciuta la mia mamma e dove ho avuto l'opportunità appunto di vivere una delle esperienze più belle della mia vita che poi mi ha portato a voler scrivere per ricordare tutto quello che ho vissuto e tutto quello che le persone che ho incontrato lì mi hanno insegnato. Andy, andiamo un attimo in pubblicità torniamo con te apriamo con una foto emblematica una fotografia dell'Italia e poi ci dobbiamo anche un po' divertire perché la tua natura è provocatoria ma tu hai delle risposte eccezionali. Torniamo subito con la nostra Andy e le facciamo ancora i complimenti per questo suo libro con una finalità interamente benefica torniamo subito dopo la pubblicità cari amici telespettatori siamo di nuovo qui in compagnia della nostra Andy Fei e abbiamo cara Andy una foto molto eloquente che fotografa la situazione italiana ringrazio ringrazio tra l'altro la regia oggi composta da Fabio e Andrea eccolo qui questo è un grafico che ci dice come ci sia in Italia un crollo delle nascite che dal 2008 al 2022 ha prodotto una curvatura veramente brutta nel senso che abbiamo un dato di valore assoluto di meno 27.484 nati in meno sul 2019 e sul 2021 il dato che possiamo rappresentare in percentuale è del meno 1,9% la famosa crisi della culla la crisi delle natalità Andy lo so che questo può essere anche un discorso sofisticato ed economico ma l'economia di un paese si fonda anche sui contributi dei lavoratori minore sarà il numero dei lavoratori minore sarà il numero delle risorse dei fondi per le pensioni è possibile che anche la persona meno empatica del mondo non la voglio definire razzista non capisca che facciamo parte tutti di una stessa comunità e che il flusso migratorio è una grande mano economica lo so che è brutto definirla così ma l'intreccio il miscuglio di culture serve anche a dare forza e vigore ad un paese a far sì che si paghino le tasse a far sì che si lavori che si creino delle famiglie sì sono completamente d'accordo con te Alvise comunque l'immigrazione fa parte comunque della storia dell'umanità da sempre e comunque non serve prendere anche solo il dato dell'Italia perché molto spesso si tende a pensare che il fenomeno immigratorio o sia un problema o sia una materia riguardante solo l'Italia però in realtà i dati dimostrano che anche nel resto d'Europa i flussi migratori ci sono e contribuiscono all'economia del paese ricordiamo che Londra la big city una delle città più importanti al mondo ha un sindaco indiano sappiamo benissimo di qualche piccolo screzio tra i popoli nel passato eppure a Londra il sindaco indiano questo sta a significare che non si bada mai alla nazionalità ma si bada alla competenza della persona Andy veniamo a un gioco bellissimo io sono orgogliosissimo già ti vedo sorridere il gioco si chiama bottoniera noi abbiamo cinque numeri tu da uno a cinque dovrai scegliere liberamente puoi anche dire tutti i numeri in serie alternarli hai cinque numeri da dirci e sulla base di cinque numeri noi vedremo delle foto e io ti domanderò sulla base di questa vulgata dell'italianità della razza caucasica della capacità di riconoscere la nazionalità dallo sguardo fiero e orgoglioso io ti domanderò di insomma secondo te di quale nazione sono questi giocatori di calcio da uno a cinque dimmi un numero da uno a cinque e tre eccoci qua lasciate lasciate questa immagine lasciate questa immagine stiamo parlando di un calciatore di grande valore di una delle sorprese della serie A di un giocatore molto importante il suo nome è Dorgu e gioca nel gioca nel Lecce bene cara la nostra Andy secondo te di che nazionalità è? allora premettendo che non ne so niente di calcio quindi tutte le mie risposte e no ma secondo una teoria c'è c'è un aspetto estetico che domina che domina che dovrebbe far capire quindi sì allora vediamo facciamoglielo rivedere aiutiamola però eccolo qua Dorgu ok ma potrebbe essere del Cameroon perfetto Dorgu è nato a Copenhagen in Danimarca il classico profilo danese esatto allora dici un altro numero da 1 a 5 escludendo il numero che ci hai già detto ok facciamo 1 oh 1 l'Italia secondo la cabla oh eccolo qui eccolo qui gioca nella Fiorentina vedete il giglio bellissimo il simbolo della città di Firenze è una delle città d'arte è una delle città più belle d'Italia se non del mondo la nostra Andy indizio che non aiuta grazie Alvise questo direi Kenya benissimo si chiama Kayode ed è l'unica cosa che lo avvicina al Kenya perché è nato a Borgomanero è nato a Borgomanero scusate a me sta venendo da ridere perché questa è la fotografia della realtà questa è la fotografia della realtà a Borgomanero benissimo Fiorentina Kayode altro numero altro giro ok facciamo 5 5 oh eccolo qui capitano del Torino si è autodefinito uno dei tre centrocampisti centrali mancini più forti della Serie A e bisogna dire che forse è stato un po' ottimistico con se stesso ma sicuramente un gran bel giocatore che è stato anche nel Milan dai suoi tratti somatici che cosa possiamo capire è un caucasico di dove sarà il nostro Riccardo allora può essere sudamericano argentino argentino bene Riccardo Rodriguez è nato a Zurigo in Svizzera e qui altri due numeri e belli Andy questa è l'esatta rappresentazione della realtà di quello che tu hai detto nell'intervista diventata virale di tutte quelle castronerie sugli aspetti esteriori ed estetici divertiamoci un altro po' altri due numeri ci hai dici pure ok allora andiamo col 4 eccolo qua eccolo qua sono anche veggenti tecnici proprio sul 4 lo hanno messo gioca nel Milan è considerato l'astro nascente del calcio della sua nazionale ha sempre giocato nei momenti di difficoltà della stagione del Milan e ha un nome che ha una pronuncia molto particolare brasiliano secondo la nostra Andy è brasiliano si scrive T H I A W si pronuncia ciao come se fosse cinese ed è nato a Dusseldorf in Germania ed è considerato l'astro nascente del calcio tedesco l'ultimo numero inutile che tu lo dica ma è un calciatore eccezionale che gioca in Inghilterra nel Tottenham ed è uno dei giocatori sui quali probabilmente Luciano Spalletti farà affidamento in futuro e mi sono già fregato va bene direi Ghana Nigeria bene Luciano Spalletti è l'allenatore dell'Italia meno male che non ha colto l'indizio è un veronese puro sangue è un veronese puro sangue il nostro Udoge penso che mio fratello Ibra mi prenderà in giro per sempre perché lui è super tifoso del calcio però Andy scherzando e ridendo hai sorriso ti sei divertita ma possiamo dire che è la fotografia visiva di quel meraviglioso discorso che tu hai fatto su un emittente nazionale per favore non categorizziamo le persone vi prego vi prego è questa la sintesi di tutto sì praticamente sì nel senso visto che qualcuno è convinto che i tratti possano definire la nazionalità di una persona ma non è così perché in realtà in tutti gli stati le persone proprio a livello somatico e io ho girato tanto anche comunque in Europa sono diversissime tra loro cioè io anche all'estero potenzialmente ogni persona che incontro potrebbe essere un italiano uno svizzero un norvegese un ganese capito e non rendermene conto soltanto guardandolo in faccia cioè devi prima conoscere la persona per capirlo Andy c'è il calcio purtroppo lo sappiamo bene a volte è una calamita di frustrazioni ci sono delle tifoserie eccezionali e sono tutte eccezionali ci sono le mele marce anche all'interno delle tifoserie e a volte assistiamo a degli episodi di razzismo dagli spalti nei confronti di giocatori che hanno la pelle scura ma che sono della squadra avversaria che vengono subissati di fischi e di ululati ma quando il pallone ce l'ha il giocatore con la pelle scura della propria squadra non vengono fischiati quindi possiamo dire che il razzista è veramente ignorante cioè non riesce neanche a esserlo fino in fondo è proprio stupido è un ignorante eh sì perché gli dipende sempre come e quando gli conviene ed è anche questa una fotografia reale rassegna stampa grazie alla regia oggi composta da Andrea e Fabio la rassegna stampa che siamo in chiusura il resto del Carlino migranti a Ravenna sabato sbarcano 52 persone recuperate dalla nave ONG un articolo del collega Luigi Scardovi ed è avvenuto al porto di Ravenna altra notizia altro giro di Walzer che ci vuole far capire come il fenomeno migratorio purtroppo rappresenti un disagio nei confronti di chi parte perché non si va in vacanza come sosteneva qualcuno il sole 24 ore non necessariamente considerabile come un giornale estremista e rivoluzionario ci ricorda come gli immigrati sono una risorsa ma ci dicono i colleghi Finizio, Mazzei e Melis che gli italiani non li vogliono la foto è dell'ansa perché per quasi la metà degli intervistati il contributo degli immigrati è positivo ma la maggioranza è contro i nuovi arrivi si chiama bipolarismo in qualche modo il 55% delle persone intervistate dice questo economia sole 24 ore il rapporto costi benefici è positivo per l'Italia ce lo ricorda il collega Finotto bene Andy dal debito alle pensioni ecco l'impatto di migranti sull'economia italiana più 33% di immigrati garantirebbe un calo del debito Andy queste sono notizie del più importante giornale economico italiano che ci fa capire come l'immigrazione non debba essere considerata solo un fenomeno economico perché sarebbe squallido un fenomeno sociale ma possiamo dire e siamo alle battute finali e invitiamo tutti a leggere il tuo libro sono allergico al pesce a cuna matata con l'intero ricavato in beneficenza al villaggio della tua cara mamma possiamo dire che il fenomeno migratorio non può essere fermato perché noi dobbiamo anche essere onesti non si può fermare il vento si perderebbe del tempo ed è la stessa cosa per il flusso migratorio perché chi parte lo fa per una necessità e quegli aguzzini che mercanteggiano le anime in mare per essere fermati vanno arrestati non bisogna impedire che questi immigrati vengano massacrati nel paese da cui partono sì come ho detto prima il fenomeno migratorio è comunque una caratteristica del genere umano c'è sempre stato proprio dall'epoca dell'astrolopiteco dai primitivi è una cosa inarrestabile è una cosa che comunque serve a ogni singolo stato soprattutto ora che comunque viviamo in un mondo ampiamente globalizzato e anche la globalizzazione sappiamo che è un fenomeno ormai inarrestabile è una questione con la quale non dipende da noi non dipende da me e te Alvise perché molto spesso quando ne parlo sembra che comunque io sia di parte o che stia solo cercando di difendere no questo lo dice come abbiamo visto anche l'economia il giornale più importante uno delle testate giornalistiche più importanti in Italia cioè è frutto di studi di anni in sociologia antropologia etnologia globalizzazione eccetera quindi anche la stessa formazione degli stati che abbiamo oggi attualmente sono frutto comunque di secoli di immigrazione dei popoli e di spostamenti e possiamo anche dire cara Andy che gli Stati Uniti d'America sono la manifestazione di una popolazione nata dal miscuglio di razze non esiste l'americano i veri americani li hanno chiusi li hanno chiusi in alcune baracche li hanno distrutti li hanno uccisi ho domandato cosa direbbe la Andy grande all'Andy piccola ma l'Andy di 5 anni se vedesse oggi l'Andy grande cosa le direbbe sarebbe orgogliosa cosa le direbbe eh l'Andy piccola gli direbbe grande non che cavaria mai credù però brava la parola vecia vedo che è sempre presente sia da una parte che dall'altra Andy io ti ringrazio ti rinnovo i complimenti perché tra le righe ha proprio questo obiettivo raccontare che il sangue non ha colori e affidarsi a persone belle dentro come te grazie veramente Andy e in bocca al lupo perché la tua è una vera e propria missione grazie a te Elvise di niente di niente tra l'altro non ne hai presa una di nazionalità adesso non è che voglio essere pignolino però quindi forse il principio del riconoscimento delle razze non è propriamente andato a buon fine grazie alla nostra Andy Faye grazie al suo splendido sorriso la sua splendida storia grazie alla regia ai tecnici agli assistenti di studio al mio editore Mino Distanti e a voi che rendete tutto questo possibile ogni settimana grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti